... ... ... ... Ragazzi! 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 Ciao a tutti! Poi dei brutti e benvenuti a questo nuovo lesplay maledetto! Se urlo faccio apposta perché... SONO PERZO NEL VERDA! E come vedete sono tornato con la webcam che... sono tornato con la webcam col capello mo' corto, molto pazzo Nuova partita Non so Facile, normale Facile, facile, troppo Ho messo in questa angolazione perché sto riprendendo con l'altro pc, perché con questo pc se riprendo con la webcam mi si spegne, mi fa in crash E ora iniziamo che non so nulla a parte i cazzi Questa è la cartina e così le prendo Allora E' sempre meglio avere un blocco notone a portata di mano N Per la cosa da cacare Io c'ho il volume massimo delle cuffie Torna la cacata che sto facendo Devo aver lasciato la mia torcia nel diretto E' come amnesia Ma aspetta, non vi ricorda qualcosa? Io questa scena mi sembra di averla già vista E' oddio Oddio E' un clone E' uguale No, veramente Veramente Sembra un copy and colla Vabbè I dettagli diversi ci sono Ma ragazzi E' sempre la stessa zuppa Madonna Si vabbè Oddio No, 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 no